Sono arrivati i punti Payback! Da oggi li raccogli da Carrefour, all'Italia, con tre! Mediaset Premium e alla ESS! Tutti con un'unica carta fedeltà, la nuova carta Payback! Punti che puoi usare ogni giorno per fare la spesa, volare, comunicare, seguire il cinema e il calcio in TV o fare rifornimento. La carta è disponibile gratuitamente su Payback.it o presso i partner. Richiedila subito! Grazie!